Arriva in aula il piano per salvare le casse del comune di Napoli che impegna il governo a stanziare un miliardo e 231 milioni di euro in vent'anni per mettere in sicurezza le finanze della città. Il sindaco Manfredi e l'assessore al bilancio Barretta hanno illustrato il documento che cammina su due binari riscossione e valorizzazione dei beni. Dal 2023 entra in vigore la tassa d'imbarco a Capodichino di 2 euro e l'aumento dell'IRPEF nella misura dello 0,1%. Un piano molto articolato che sicuramente mette in sicurezza le finanze del comune, evite il dissesto. È un'occasione storica per Napoli per rimettere a posto le casse del comune che è la precondizione poi per poter creare realmente sviluppo. Ma l'assessore Barretta avverte il patto non pregiudichi altri finanziamenti. Più presto riusciamo a presentarci a Roma con le proposte d'intesa meglio è chiediamo alcune cose al governo che siano rispettati i tempi di erogazione entro il marzo di ogni anno e che soprattutto il comune di Napoli possa usufruire anche di ulteriori risorse quelle che lo Stato metterà in campo che quindi questi finanziamenti di ora non siano pregiudizievoli a ulteriori risorse. Critica la consigliera Clemente che accusa il sindaco di non aver coinvolto l'intero consiglio in questo passaggio cruciale. L'impegna voglio ricordare la città per i prossimi 21 anni ed è impensabile che tutto ciò non passi attraverso una fase di partecipazione e di condivisione del testo che poi il sindaco andrà a firmare a Roma.